Lo sport e il volontariato sono i tre pilastri su cui ha costruito il mondo di Luca Corso, 23 anni, atleta pluripremiato e chef per passione. È nata la mia passione della cucina perché avevo visto, io da piccolo avevo visto mia madre come cucinava. Per questo ha frequentato corsi nel settore alberghiero e subito dopo ha svolto tirocinio in varie strutture. Ha collaborato con gli chef stellati di Alto Gusto e Ascotrade alla realizzazione di un ricettario patrocinato dall'associazione italiana Persone Down che raccoglie i piatti e le preparazioni di numerosi ristoranti della provincia di Belluno. Luca è di Lamon in provincia di Belluno e il suo battesimo del fuoco in cucina lo ha ricevuto proprio nella sua terra a Feltre, al ristorante Aurora. E poi c'è un sogno che unisce la passione per la cucina e il volontariato. Il mio sogno è di lavorare per conto mio, seriamente, perché voglio aprire un ristorante per l'associazione, ragazzi con la sindrome di Down dell'IPD. Volevo prendere tutti i miei ragazzi, ci sono anche camerieri, eppure quattro cuochi nella mia associazione e per quello che voglio entrare nello specifico per qui di Feltre, anche con quelli di Belluno. Altro capitolo importante della vita di Luca, lo sport, che lo ha visto salire sul podio dei giochi nazionali invernali Special Olympics Italia in Piemonte. Oro nel Super G, due medaglie d'argento nello speciale e nel gigante. Ma la sua voglia di sport non si ferma allo sci. Luca infatti pratica karate dal 2003 ed è cintura nera, primo Dan.